Comunicare lo sport è il titolo del convegno organizzato da Corecom e Consiglio regionale in collaborazione con il CONI del Piemonte che si è tenuto al centro incontri della regione Piemonte. Obiettivo dell'incontro, cui hanno partecipato autorevoli relatori, promuovere le regole e i valori positivi dello sport per contrastare fenomeni allarmanti quali violenza e razzismo. Le risposte più efficaci, campagne informative e chiare regole ideologiche. Presidente Malagò, comunicare lo sport vuol dire, per riassumere un suo pensiero, comunicare anche i valori dello sport? Sì, c'è anche questo. Non c'è solo questo, ma sicuramente quando uno deve comunicare normalmente tira fuori il meglio di quello che c'è del soggetto che si vuole raccontare agli altri. Insomma, lo sport di valori ne ha molti, per cui è responsabilità sua, mia, di tutti quanti, cercare, persone che si occupano di sport a vero titolo, cercare di valorizzare al massimo questo prodotto. Dalle vignette di Carlin Bergoglio all'era dei social media, cosa è cambiato nel modo di comunicare l'evento sportivo? È cambiato tutto, è stato l'argomento del mio intervento, insomma, senza arrivare a 70 anni fa, quindi alle vignette di Carlin Bergoglio. I giornali erano l'unica fonte di vera, di informazione. Adesso in tempo reale con i new media si può sapere tutto. Con Twitter sono gli stessi protagonisti che forniscono le notizie. Bisogna riguarsi, bisogna cambiare il linguaggio, soprattutto bisogna passare dalla fase delle notizie a quella dell'analisi e degli approfondimenti, perché altrimenti chi va in edicola a comprare un giornale compra un qualcosa di vecchio.